Si sente parlare sempre delle potenzialità che l'Italia ha e si parla di design e cucina. Noi abbiamo pensato che è molto importante poter mettere insieme queste cose e abbiamo pensato a questo blog come un contenitore in cui esponenti del mondo del design, dell'architettura, della cucina e anche dell'imprenditoria possano dare un contributo che si accumulerà nel tempo e creerà questa contaminazione interessante dove la creatività e l'eccezionale bravura di queste persone potrà creare veramente cultura. Grazie a tutti! Grazie a tutti!